L'8 maggio al Salone del Libro i direttori della Caritas del Piemonte della Valle d'Aosta Pierluigi Dovis e della pastorale degli universitari della Diocesi di Torino Don Luca Peiron con il professore del Politecnico di Torino Giuseppe Quaglia hanno presentato il progetto Servire con l'Ode per avvicinare gli studenti universitari al volontariato. L'incontro dal titolo Conoscere per condividere, condividere per conoscere è stato promosso in collaborazione con la consulta regionale dei giovani dell'assemblea regionale e moderato dal direttore della comunicazione istituzionale dell'ente Domenico Tomatis. Il nostro desiderio hanno sottolineato i relatori e trovare con i giovani le risposte alle domande che contano davvero nella vita o forse ancora prima trovare le domande per cui valga davvero la pena investire il cuore e l'intelligenza.